il tempo che non lo sto facendo scusate che ma il di sicuro un massacrato e di sicuro un massacrato e di sicuro un per il commentare da difendere dei rufiunni si caio 1013 ok allora le dobbiamo somma bisogna e se la riconezione da questo però io mi andrei a guardare 9138 non mi andrei perché voglio dire cosa esce e mi andrei qui un 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 buon livello per attaccarlo allora qui li hanno fatto qui 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 non è vero Ok, è di livello 1, ma un. Ok, è di livello 1, ma un. Ok, sono tante volte andiamo ad attaccare le altre. E' una macchina, stanno a 7, non scrivono. Ora vediamo se c'è un po' l'idea che non è un po' l'acqua e voglio ricaricare e vorrei fare giganti centomila giganti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.